come ti chiami angela angela e sentimi ludovica angela perché ti chiami angela perché mio nonno prima che moriva diceva che se nasceva una femminuccia si doveva chiamare come me e come ti chiamati tu non era ancora nata però lui diceva prima deve comunque chiamarsi come lei giusto e t'hanno chiamato come te poi vero no mio nonno voleva che io mi dovevo chiamare angela e come t'hanno chiamato angela angela forte e lui come si chiamava tuo nonno angelo va bene claudia sente stato veramente angela angela guardavo dove vedevi un po